il piccolo zar di paolo risso il 12 agosto 1904 a peterov russia nacque alessio romanov figlio dello zar di russia nicola romanov e della zarina alessandra sposi da dieci anni e già genitori di quattro bambine olga tatiana maria e anastasia i romanov sono di religione cristiana ortodossa e così viene battezzato il bambino il 3 settembre 1904 a pochi giorni dalla nascita bello e sofferente dalla sua nascita alessio mostra i segni patologici dell'emofilia sua madre veglia con angoscia sui movimenti del bambino finché eviti più che può le cadute i graffi gli ematomi che gli provocano dolori intensi dei forti mal di testa e febbre alta a volte è costretto a muoversi in carrozzella cresce così segnato dal dolore spesso nella sua preghiera chiede mio dio prendimi con te così non soffro più crede in gesù il gesù che soffre e ridime dalla croce e che lo guarda bello e maestoso dall'icone bambino è più che cosciente della sua debolezza e all'inizio è un tipo difficile collerico e autoritario quando sta meglio si rivela un ragazzino amabile sincero capace di chiedere perdono per quanto ha detto fatto nel dolore è bellissimo e colpisce tutti per le sue fattezze di piccolo angelo furbo e audace ha appreso dai medici che la sua vita non sarà lunga al massimo potrà raggiungere i vent'anni ma non dispera accetta le permissioni di dio noi dobbiamo sempre compiere la sua volontà nel 1912 durante il soggiorno di caccia della sua famiglia a spala alessio caduto dal calesse che lo porta a passeggio è colpito da atroci dolori tutto il palazzo reale è scosso dai suoi lamenti e dalle sue lacrime coccenti i medici sono impotenti a provvedere alessio riceve gli ultimi sacramenti quando sembra vicino all'agonia guarisce tra lo stupore di tutti dal 1907 al 1917 un marinaio è incaricato della sua protezione attorno ai dieci anni dell'imminenza della guerra 1914-1918 alessio serio molto serio nel controllare la sua sensibilità le espressioni del suo soffrire si fa più assiduo agli impegni del suo stato gli piace contemplare con lo sguardo fisso e rapito le icone di gesù il pantocrator il signore il dominatore e della madonna la glico filusa la madre della tenerezza si lascia avvicinare dalla passione di gesù ma sa che dopo verrà la sua risurrezione tra guerra e rivoluzione scoppiata la guerra nell'estate del 1914 alessio decenne con il padre visita i soldati feriti negli ospedali militari il suo coraggio impressiona molto quando accompagna lo zar suo padre a incoraggiare i soldati russi al fronte senza paura la situazione sociale politica e militare si fa sempre più difficile comunismo masoneria forze oscure rendono ancora più torbi della realtà in cui si vive c'è chi manovra fin dalla fine dell'ottocento per far scomparire dalla storia i due imperi cristiani ancora esistenti in europa gli asburgo in austria ungheria e i romanov in russia il 2 marzo 1917 lo zar nicola abdica in favore del fratello michele che già l'indomani rinuncia alla corona il governo provvisorio assegna lo zar e la sua famiglia a residenza sotto il controllo poi lo manda esule a tolbolk capitale della siberia a 1800 chilometri da mosca nella casa del governatore sotto il pretesto di proteggerlo ma è già prigionia che si aggrava quando lenin con la rivoluzione d'ottobre prende il potere in russia il 25 ottobre 1917 ormai caduta in mano ai bolshevichi comunisti più accesi alessio non si lamenta contento di essere ancora insieme ai suoi familiari un altro marinaio gentile umano viene designato per la custodia del giovane principe ma sarà presto ucciso dalla polizia comunista all'inizio del 1918 alessio diventa ancora più sensibile alle sofferenze degli altri rassegnato a compiere la volontà di dio generoso se i comunisti vogliono uccidermi lo facciano pure perché purché non mi torturino al padre scrive biglietti istruggenti di fede e affetto dio ti protegga papà io il tuo alessio ti stringo tra le mie braccia dall'inizio del 1918 tiene un diario personale per superare la tristezza di quelle lunghe giornate che inclinano a qualcosa di orribile che tutti presagiscono nell'aprile 1918 la famiglia dello zar è trasferita a ecaterinburg città già tutta in mano ai comunisti lì sono reclusi una villa fatta circondare da alte palizzate guardate a vista da soldati brutali e spesso ubriachi che fanno loro subire ogni sorta di umiliazioni e di privazioni la loro esistenza si trasforma in una pesante via crucis in un calvario si avvicina il martirio come era capitato in francia a re luigi sedicesimo e alla sua famiglia al tempo della rivoluzione del 1789 ma in peggiori condizioni piccolo martire lenin vuole sterminare tutti i romanov quelli che sono andati in esilio saranno sterminati l'uno dopo l'altro nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1918 il capo comunista jacov iurovski accompagnato da altri 11 uomini ai suoi ordini fa scendere lo zar e la sua famiglia con le quattro persone in servizio nella cantina della villa che li tiene prigionieri da tre mesi alessio qualche giorno prima di morire era caduto e ha una gamba affasciata incapace di camminare da solo suo padre lo porta in braccio verso la buia cantina che sarà il luogo della loro esecuzione a notte fonda il commissario bolshevico spara con la rivoltella lo zar seduto sulla sua carrozzella alessio chiude gli occhi e prega è colpito anche lui e rotola a terra gravemente ferito nel suo stesso sangue si aggrappa la camicia di suo padre e non si muove più quando il capo comunista jacov iurovski si accorge che egli respira ancora lo segnala a ermakov che a diverse riprese gli pianta la baionetta nel suo corpo ma alessio vive ancora allora iurovski lo finisce con due pallottole alla tempia destra la salma viene spogliata degli abiti come quelle dei suoi familiari viene irrorata di liquido infiammabile bruciata e sfigurata con l'acido sulforico prima di essere buttata in un pozzo nella foresta di coptianchi alcuni giorni dopo i corpi vengono ripresi per essere sepolti il corpo del piccolo zar viene bruciato nel bosco vicino una vera infamia di cui il comunismo atio e omicida è capace come ha assassinato milioni di innocenti tra questi la famiglia imperiale romanev con lo zarevich alessio il piccolo zar di soli 14 anni un ragazzo che nella sua breve vita aveva solo sofferto pregato e amato e offerto a gesù il suo soffrire si racconta che è immerso nel suo sangue colpito a morte ancora trafitto dalla baionetta del sicario di lenin egli abbia invocato il nome in cui soltanto c'è salvezza il nome che sempre risponde ed ha la pace vera gesù 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 nel 2000 la chiesa ortodossa russa ha canonizzato il piccolo zar fissandone la festa il 17 luglio l'abbiamo ricordato anche noi se non come santo come martire delle iene della stessa razza di quelle iene che il 13 aprile 1945 a piano di monchio modena assassinarono il seminarista rolando rivi i soli 14 anni come alessio e ora beato che pure morì invocando il nome santissimo di gesù grazie a tutti